Vorrei dire lassù? No, laggiù. Io sto all'inferno. L'inferno può attendere. Prima di tornare laggiù, volevo chiederti perdono. Sei perdonato. E per sdebitarmi, volevo farti un favore. Non ho da accendere. Non ti preoccupare, prova qui. È uno dei pochi vantaggi dell'inferno. Dunque, è stato bretella a commissionare il tuo omicidio. Bretella? Sì. E poi ha fatto fuori anche me. Che figlio di una tigre. E ora ha rapito Luigi Morgan e vuole ucciderlo. Luigi Morgan? Sì. Grazie, sicario. Cercherò di mettere una buona parola per te. Mi basterebbe un piccolo condizionatore.